Emanuele Ghelli, candidato a sindaco per Chitignano con la lista Il Popolo delle Libertà. Da che è sostenuta la lista che rappresento? La lista che rappresento è sostenuta dal centro-destra. In più ci sono anche il consigliere regionale Rossella Angiolini e altre persone del posto. Quali sono i punti più qualificanti? I punti più qualificanti del nostro programma sono il sociale, aiuti verso le persone anziane e rilanciare il turismo per Chitignano, visto che è venuta un po' a mancare in questi ultimi anni. Ecco, una priorità, un'emergenza per il Comune di Chitignano? L'emergenza del Comune di Chitignano sarebbero tante, però l'unica emergenza vera e propria è il turismo, e la mancanza di turismo nel paese e allora cercheremo di fare, con il nostro programma, sempre se possibile e se vinceremo, di fare un percorso storico-paesaggistico, cioè risfruttando il castello degli Ubertini, anche se privato, però cercheremo di mettersi d'accordo con il proprietario. La buca del tesoro, che sarebbe chiamata anche l'acqua forte, ci sarebbe un parco bello che potrebbe essere sfruttato in tante situazioni, in tante cose, per feste, per danze, per tutto. La polveriera dell'inferno, dove anticamente veniva fatta la polvere da sparo dai contrabandieri di Chitignano, perché erano un contrabandieri una volta, e inoltre ci sarebbe anche l'ecomuseo da poter far visitare ai ragazzi delle scuole, facendo un percorso così e via.